ho tra le mani ragazzi il nuovo telaio giant propel advanced pro 2023 nell'unica colorazione disponibile l'unica ordinabile dalle foto sembrava fosse un po più chiaro invece di questo bel grigio la parte superiore a questa colorazione violetta blu astra che tanto piace al mondo bici così come la scritta e niente per il resto è totalmente grigio grigio perlaceo bel grigio diciamo sì in questo video oltre a dirvi il colore di questo telaio che comunque è importante perché dalle foto non rende mai come dovrebbe vi dirò qualche chicca qualche caratteristica e cosa più importante lo andremo a pesare in tutti i suoi pezzi perché ovviamente non c'è solo il telaio ma c'è anche la forcella e non solo quindi iniziamo quindi prima di procedere con i pesi vediamo cosa danno nel kit telaio oltre ovviamente a telaio e forcella dunque c'è il reggisella dedicato per questo modello propel reggisella in carbonio con testa in alluminio poi il telaio viene fornito di ovviamente spandere per la forcella kit serie sterzo compreso di cuscinetti spessori dedicati da mettere appunto tra l'attacco manobbrio e il telaio perno per ruota posteriore 142 mm e perno per ruota anteriore comprensivo di levetta da 100 mm oltre a questo c'è anche il supporto per il per l'attacco giant quindi supporto dedicato che si fissa direttamente con due vitine all'attacco manubrio e poi sì c'è qualche gommino qualche vitina l'espander per fissare la batteria del di 2 a reggisella diciamo kit molto completo manca giusto il movimento centrale ma quello poi dipende da la guarnitura quindi il gruppo che andrete a montare però ragazzi c'è una chicca perché con il telaio vengono forniti anche due porta borraccia dedicati dedicati significa che sono stati appositamente studiati per questo telaio e infatti il porta borraccia che va sul piantone è diverso da quello che va sotto bobblico perché hanno una forma appunto dedicata una forma specifica sono leggerissimi adesso li andremo a pesare sono in carbone quindi direi un regalino niente male fornitoci fornitoci da giant ma prima di procedere con i pesi veramente ultime informazioni voglio farvi vedere che qui nel telaio ci sono i fori per il sensore giant ride sense come succedeva già prima con i tcr vecchi propel c'è la possibilità di montare questo sensore il telaio ovviamente è completo di forcellino di attacco per il dragliatore e cosa importante volevo farvi vedere il nuovo tubo sterzo e quindi la nuova forcella perché dato che adesso i cavi passano tutti all'interno con un sistema come ho già detto in altri video molto più pratico e pulito voglio farvi anche vedere che sulla forcella c'è questo foro dove appunto entra il tubo dell'olio della pinza anteriore e la forcella rispetto al passato non è più tonda ma è a d quindi ha la parte anteriore piatta mentre quella dietro è curva questo per permettere appunto per creare spazio per il tubo dell'olio tra appunto il tubo della forcella e i due cuscinetti della serie sterzo quindi direi novità novità interessante poi ovviamente la forcella è full carbon con anche il tubo in carbonio sui cuscinetti della forcella c'è anche da aggiungere che adesso sono uguali sia per quello alto che per quello basso questo dovuto al nuovo passaggio dei cavi ma andiamo finalmente ai pesi partiamo dalla forcella che ha un peso di 440 grammi 440 grammi la forcella ricordatevelo poi passiamo all'elemento più importante che è il telaio che come vi dicevo è già comprensivo di forcellino quindi tutte le parti metalliche e il telaio pesa un chilo e venti un chilo e venti quindi più 440 fa un chilo 660 per telaio e forcella in taglia media continuiamo pesando anche il reggisella che pesa 193 grammi a cui andremo a sommare il meccanismo di serraggio quindi andiamo a 222 per completezza pesiamo anche i due perni completi di levetta che può essere usata sia per quello anteriore che per quello posteriore ok 99 grammi entrambi molto buono e poi porta borraccia che almeno diciamo a spanne sono molto leggeri infatti addirittura 26 grammi quello più piccolino e 35 quello più grande che va sul tubo obbliguo con questo ragazzi credo di avervi detto tutto il pro come molti dove sapranno non è la versione top di gamma infatti la top di gamma lsl con il reggisella integrato quello per capirci che ho provato che ci ho fatto un video recensione se non l'avete visto cliccate andate a vederlo questo appunto come dicevo è il pro quindi è il medio gamma però sicuramente è il telaio che andrà per la maggiore perché il reggisella che fa sui giù è più comodo e anche perché secondo me ha un costo molto molto buono infatti di listino viene 2650 euro qui in descrizione vi lascio il link a cui cliccare per andare al nostro sito e per acquistarlo me ne sono arrivati davvero pochissimi pezzi però c'è più di qualche taglia quindi se siete interessati cliccate e andate a vederlo e niente per finire voglio solo dire che per montare questo telaio ovviamente è consigliato mettere il suo attacco manubrio con il suo manubrio perché è studiato appositamente per questo quindi i fili passano tutti belli nascosti dentro ma all'occorrenza è possibile anche montarlo con un manubrio con un attacco che preferiamo senza andare per forza su quelli giant comunque per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione scrivete qua sotto nei commenti se avete informazioni da chiedere le vostre opinioni se comprereste questo telaio che potrebbe essere un bellissimo upgrade per chi magari ha già non so una giant dcr vuole il passaggio cavi integrati questo come peso direi che è molto buono per chi ha un altro telaio vecchio ma già un gruppo magari elettronico ovviamente freni a disco che non vuole cambiare allora questo telaio con una spesa direi non eccessiva per quello che è adesso il mercato bici potrebbe essere sicuramente una valida alternativa io come al solito ringrazio l'attenzione e invito a mettere un bel like ad iscrivervi al canale e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ciao